Io sono Massimo Ferrario, sono il direttore del centro di produzione e voglio dare il benvenuto in particolar modo ai ragazzi del Politecnico. Oggi non facciamo una puntata di Quelli che è il calcio, facciamo una simulazione di come si usa uno studio durante una diretta televisiva. Voglio semplicemente dirvi due parole sul centro. Tenete presente che la televisione in Italia nasce in modo sperimentale a Torino ma le trasmissioni regolari sono partite dalla Rai di Milano il 3 gennaio del 1954. A Milano siamo oggi 850 persone nel centro Rai e oltre a occuparci di tutto lo sport tenete conto che facciamo sì quelli che è il calcio dove siamo adesso, facciamo la domenica sportiva, due per tutti, Voyager, sono alcune delle trasmissioni che voi vedete che vengono realizzate qui, oltre a naturalmente le quattro edizioni quotidiane dei telegiornali che sono il Tg3 delle ore 12 e le tre edizioni del Tg regionale Lombardia. Dopo di me vi darà il benvenuto il professor Piero Pozzi del Politecnico di Milano e colgo l'occasione per ringraziare anche il professor Balio, il vostro rettore, per la collaborazione che ci ha dato. Io andrò per la prima volta fra gli ospiti perché io le rare volte che sono stato qui durante le produzioni sono sempre rimasto dietro le linee delle telecamere, oggi mi trovo di qui, sono anche un po' emozionato, mi auguro che lo siate anche voi e buon lavoro. Buongiorno, io vi ringrazio da parte del Politecnico prima di tutto perché oramai da un paio d'anni ha avviato questa iniziativa di Milano Design Open Lecture, per questo motivo i laboratori di sintesi finale di fatto vengono trasportati con incontri dentro la città di Milano, noi cercavamo uno spazio e siamo venuti alla RAI per questo, la RAI in realtà ha fatto poi molto di più, ci ha offerto uno spazio e ci ha offerto la possibilità di verificare e di riflettere sul modo di operare, sul come si costruisce una trasmissione e su come uno studio è un luogo in cui si crea cultura e in questo percorso da anni stiamo costruendo un itinerario per creare una figura che abbia competenze nel campo delle immagini, dalla fotografia all'immagine del video, alla multimedialità. È davvero una scommessa questa e ci sembra una scommessa oggi assolutamente da giocare. Io volevo spendere una parola da parte della facoltà del design che in questo momento rappresento istituzionalmente per dire che abbiamo aperto in questi ultimi anni un fronte di ricerca e di attività che si apre proprio a tutte le professioni legate al cinema e alla televisione. Cito il Master in Movie Design, mi auguro che questa lezione possa essere l'inizio di una collaborazione fattiva e davvero originale che potrebbe dare degli ottimi risultati, degli ottimi frutti. Ringrazio tutti e anche i ragazzi che sono intervenuti, numerosi vedo. Luce. Luce perché non c'è televisione senza luce. Gli schermi domestici sono delle finestre luminose nel 99.8% delle case italiane. Sono finestre luminose tanto nella loro versione elettronica, quella più tradizionale quando una sorta di pennello elettronico scorre per rovescio rispetto al nostro sguardo e traccia in Europa almeno 625 righe colorate in ciascun venticinquesimo di secondo che compone l'immagine. Sono finestre elettroniche anche nella versione digitale dove c'è una quantità di varia definizione di pixel ma luce anche per qualcos'altro perché c'è ancora qualcosa che sta a monte di tutto questo che è solo il momento della ricezione perché non c'è generazione di immagine riprodotta senza una luce che ci consenta di scriverla. Senza questa luce che muove, senza questa luce che dà il segnale dell'esserci della televisione. E il nostro essere autori televisivi a vario titolo e quindi secondo anche tutte le professionalità che verranno oggi ad essere autoillustrate all'interno di questo studio significa che noi siamo dei costruttori almeno di luminescenze. Quando va meglio siamo degli, come dire, dei costruttori di illuminazioni, il termine può sfuggire verso altri significati, ma di illuminazioni che sono volte a raccontare situazioni e cose. Dire situazioni e cose significa dire gli oggetti anche, significa dire il luogo, significa dire degli apparati. E tutto questo ci rimanda, almeno nel discorso di oggi, alla macchina, allo studio, a questo studio, che ci consente di raccontare televisivamente e che ci mette in condizione di vedere, man mano queste luci saliranno, e di mostrare da lontano senza soluzione di continuità. Anche questa è una sottolineatura canonica in qualche maniera, ma il flusso televisivo è per sua natura in interrotto, che ci consente ancora una volta di generare un'interpretazione di tutto quello che viene documentato, di tutto quello che noi documentiamo e degli eventi che l'immagine televisiva restituisce. In questo senso si può dire che uno studio televisivo è effettivamente l'erede diretto della grande macchina teatrale barocca, nella sua ridondanza, ma soprattutto, direi, nei suoi meccanismi. E qui dobbiamo andare su una citazione. Nel 1641 andò in scena, a Venezia, il melodramma La finta pazza, un testo di Giulio Strozi musicato da Francesco Sacrati, nomi che ci dicono poco, forse. Scenografato, forse anche questo nome ci dirà poco, ma è importante, scenografato da un grande conduttore di macchine teatrali che rispondeva al nome di Giacomo Torelli. In quell'occasione una gazzetta veneziana pubblicò una recensione critico giornalistica, siamo agli inizi, agli albori di un certo giornalismo, che dice, mirabile era l'artificio di italiano essicentesco, di quella mutazione, perché un solo giovanetto di 15 anni le dava il moto lasciando un contrappeso rattenuto da un picciolferbo. Questo peso faceva aggirare un rochello sotto il palco, per lo quale, secondo il bisogno, andavano o innanzi o indietro di tellari tutti, per lo che girando tutte le parti ad un solo e velocissimo moto, rendeva grande la meraviglia come di arte non mai più usata in simile occorrenza di scene. Ed in vero che fuori di questo ingegnoso artificio l'intelletto non s'adegua alla credenza che tanti tellari possano tutti in un punto, in un baleno, anzi in un atomo, accomodarsi ai suoi luoghi per variare la scena. È la descrizione della complessità in azione, è la simulazione continua e la televisione, questa è l'altra sottolineatura di questa introduzione, è fondamentalmente complessità.